Buonasera a tutti, voglio con questo mio breve video messaggio fare gli auguri per l'avvio di questo Master e siccome so che oggi si parlerà anche dei rapporti fra criminalità organizzata e sport e si parlerà di quello che un po' di tempo fa ve l'ho scritto insieme a Gianluca Di Feo in un libro che ci ha dato grandi soddisfazioni ai Football Clan voglio provare a parlare di questo tema, sia pure molto velocemente, dei rapporti fra criminalità organizzata, mafia e sport Prima di tutto perché le mafie si occupano dello sport? Per varie ragioni ovviamente in primo luogo per una ragione economica, dovunque ci sono giri di soldi le mafie sono presenti e hanno interesse a intervenire e in qualche modo a speculare Qui però c'è una ragione ulteriore perché gli sport sono uno strumento fondamentale di avvicinamento dei cittadini per avvicinare i cittadini, sono uno strumento fondamentale dal punto di vista della gestione del consenso Gestire una squadra di calcio per esempio significa avere un rapporto significativo con contesti, con ambienti che sono ambienti politici, ambienti istituzionali, ambienti economici L'infiltrazione della criminalità organizzata nello sport, soprattutto negli sport di massa serve quindi oltre che a fare affari anche a gestire un consenso che è collegato alla partecipazione alle attività sportive E poi l'altro aspetto, non di secondario livello, è che c'è un grande interesse ad utilizzare lo sport anche come strumento di avvicinamento delle istituzioni dietro le squadre di calcio, ma non solo di calcio c'è per esempio una presenza significativa di uomini delle istituzioni anche nelle partite del calcio minore partecipano sindaci, assessori, consiglieri comunali questo significa creare un rapporto forte con ambienti della politica che però sono a volte ambienti vitali per la gestione della criminalità organizzata e c'è poi un ultimo dato che pure noi all'epoca avevamo evidenziato in modo significativo attorno allo sport si è creato un sistema di interessi soprattutto legato al mondo delle scommesse il tema delle scommesse è un tema molto delicato perché prima di tutto rappresenta uno dei rischi principali attraverso i quali si può mettere in discussione la lealtà delle competizioni sportive il mondo delle scommesse rappresenta uno strumento attraverso il quale si può provare a influire sui risultati delle manifestazioni sportive e soprattutto questo ha un grande danno per le squadre minori io credo che sia una delle cose più pericolose quello dell'inserimento per esempio delle scommesse sulle squadre minori sia un meccanismo di grande pericolo perché in realtà nelle quali girano pochissimi soldi la possibilità quindi di intervenire con meccanismi illeciti per gestire i risultati sportivi è certamente superiore e qui si pone un altro tema quello per esempio legato ai rapporti fra le mafie nazionali e le mafie internazionali intorno al mondo delle scommesse le indagini giudiziarie le hanno dimostrato si muovono personaggi di organizzazioni internazionali importanti personaggi di organizzazioni internazionali criminali ovviamente che poi riescono a creare anche rapporti e strutture di contatto soprattutto con le mafie italiane cioè quando le mafie internazionali si sono avvicinate per la gestione del sistema delle scommesse poi lo hanno fatto nel tentativo di avvicinare calciatori, dirigenti lo hanno fatto soprattutto facendo riferimento alle mafie locali ecco si è creata questa sinergia fra organizzazioni nazionali e organizzazioni diciamo locali che è oggettivamente ancora più pericoloso che rischia di mettere in discussione i risultati sportivi e rischia di rendere poco credibile il mondo dello sport a questo profilo, a questo fine fatemi fare una considerazione che facevamo all'epoca con Gianluca Di Feo nell'ambito del libro Football Clan e cioè quanto il sistema delle scommesse e soprattutto il sistema delle scommesse in grado di interferire sui risultati ha avuto un effetto disastroso per una serie di sport l'ippica è uno sport che aveva una tradizione fortissima nel nostro paese e gli ipodromi stanno certamente scomparendo e una delle ragioni per cui gli ipodromi scompagnano è certamente anche la scarsa credibilità che spesso hanno le corse perché si sa o comunque si dà per scontato che molti dei risultati delle corse di ippica sono oggetto di valutazioni di liceità e così per esempio anche la stessa box ha perso grande influenza anche e soprattutto per tutto il mondo del mercato delle scommesse che gira intorno e allora qui il tema è certamente di intervenire con la repressione penale l'Italia in questo senso è certamente avanzata perché da sempre, da tantissimi anni ha introdotto il reato di frode sportiva che ha consentito di avviare indagini importanti alcune anche sul calcio molto significative ma è evidente che qui è necessario mettere un argine preventivo un argine preventivo e operare sulle condizioni che rendono facile l'infiltrazione criminale moltissimo possono fare le federazioni moltissimo possono fare le stesse squadre e la stessa governance dello sport perché è evidentissimo che per esempio lavorare perché si evitino le scommesse sulle serie minori del calcio, degli altri sport che sono più a rischio è fondamentale, così come bisogna io credo essere anche molto rigorosi in sede di giustizia sportiva rispetto a coloro che si sono macchiati di gravi fatti di frode sportiva soprattutto collegati a questo mondo della criminalità organizzata questa brevissima chiacchierata e per fare gli auguri al Master io sono convinto e credo che sia particolarmente importante la formazione di un sistema di soggetti che abbiano la capacità di fare management nello sport ma che accompagnino questo management anche da una competenza giuridica significativa e fatemelo dire senza avere timore di dirlo anche da valori etici fondamentali perché è chiaro che lo sport che è uno strumento fondamentale per l'educazione dei bambini dell'educazione dei ragazzi quanti ragazzi nel nostro paese hanno il mito del calcio quanto sia importante che quei valori dell'etica vengono propugnati fin dal momento dei ragazzi dal momento in cui i giovani si avvicinano allo sport e quante delusioni si verificano nei ragazzi e quante delusioni pericolose che poi possono avere un'incidenza negativa anche sul loro sviluppo quante delusioni pericolose si verificano proprio per quei ragazzi che spesso verificano che fin dall'inizio esistono meccanismi di scarsa lealtà nello sport e allora la preparazione di un master in questo senso serve certamente a creare le competenze tecniche ma io mi auguro anche a mettere insieme quelle infrastrutture etiche che sono determinanti perché lo sport nel nostro paese svolga un ruolo assolutamente significativo come già è ogni giorno grazie grazie